Non perdere finanziamenti è uno dei comandamenti che l'amministrazione comunale sta cercando di seguire nonostante le tante difficoltà degli uffici che vanno avanti con poco personale e ora anche in piena emergenza per l'assottigliamento della batteria dei dirigenti. Il sindaco Lucio Greco e gli assessori la scorsa settimana hanno varato l'unità speciale per i progetti finanziati con fondi del PNRR che consentirà di andare in deroga assumendo un nuovo dirigente che si occupi proprio di queste attività. Sempre la scorsa settimana la regione ha fatto pervenire solleciti a Palazzo di Città per avere riscontri sui cronoprogrammi di tre progetti che l'amministrazione ha ripreso per quello dei lavori della biblioteca comunale per il progetto che riguarda l'area esterna di Palazzo Ducale. I finanziamenti furono confermati nell'estate di tre anni fa, l'amministrazione se ne è fatta carico e ha portato avanti le procedure seppur non siano mancati i rallentamenti, soprattutto per la biblioteca di Largo San Biagio l'attività è in fase avanzata ma gli uffici stanno cercando di finalizzare tutte le tappe previste. Senza riscontro infatti Palermo potrebbe assumere decisioni sicuramente non auspicabili i RUP comunali entro i prossimi giorni risponderanno alle richieste. Nessuno intende perdere i finanziamenti come invece è accaduto di recente con le somme per lavori di efficientamento in due diversi istituti scolastici della città. In quest'ultimo caso la regione ha disimpegnato somme per oltre 7 milioni di euro si è ritenuto che non ci fossero più le condizioni per rispettare le scadenze.